Il Trestina batte 3-2 il Fiesole Caldine e si conferma nei piani alti della classifica. I Tifernati vincono nonostante due espulsioni dimostrando tenuta atletica, grinta, organizzazione e qualità. Successo significativo al termine di una sfida ricca di episodi rilevanti. Cerbella deve rinunciare a Polito, Antonelli e Goretti e schiera la squadra con un inedito 3-5-2 in attacco Mancini e Calderini. 4-3-1-2 per il Fiesole Caldine di Carobbi che in avanti si affida a Coco e Mussi. Inizio equilibrato e su ritmi piuttosto blandi. La prima nota di cronaca al 14esimo con la punizione di Morvidoni e la conseguente girata di allegria parata in bello stile da Muscas. I calci piazzati si confermano arma importante per il Trestina che al 21esimo passa in vantaggio proprio sugli sviluppi di un corner. Morvidoni calibra bene il traversione, Alessio Ceccagnoli trova lo spazio per l'incornata vincente. Il capitano bianconero sfrutta i blocchi e la dormita della difesa fiorentina e realizza il quarto gol in campionato. Il Fiesole Caldine reagisce e si rende pericoloso al 25esimo con il tiro dal limite di Ciccone che chiama Nicola Ceccagnoli alla difficile deviazione in corner. Gli ospiti premono e al 27esimo raggiungono il pareggio grazie alla potente punizione dal limite di Galbiati che si infila sul palo alla destra di Ceccagnoli. Incassato il gol dell'1-1 il Trestina si riporta in attacco e dal 33esimo torna in vantaggio con un gol fantastico di Morvidoni. Dopo il colpo di testa di Calderini il centrocampista lascia infatti partire un pregevole sinistro di prima intenzione che si inzacca sotto l'incrocio. Legittima l'esultanza di Morvidoni che firma il terzo gol stagionale. Il Fiesole Caldine questa volta non riesce a replicare e nel finale di frazione è il Trestina a sfiorare il 3-1 con il cross di Bocciolini e il colpo di testa di Mancini deviato in angolo dall'estremo ospite. Su questa occasione si chiude un bel primo tempo. Nella ripresa Cerbella conferma gli stessi effettivi mentre Carobbi manda in campo Meacce e Chiarello al posto di Del Colle e Donadi. Il Fiesole Caldine cerca il pari e lo sfiora al terzo minuto con il pallonetto di Mussi che termina ad un soffio dal palo. I bianconeri sembrano in pieno controllo ma al decimo l'episodio è cruciale. Mussi e Nicola Ceccagnoli si scontrano in aria, i due si scalciano, il portiere reagisce colpendo l'attaccante. Grave ingenuità dell'estremo di casa, nessun dubbio per l'arbitro dalla palma che indica il dischetto ed estrae il cartellino rosso. Cerbella manda in campo Massette al posto di Vinagli, Mussi trasforma il penalty spiazzando il portiere appena entrato. 2-2 quindi ed Umbri in inferiorità numerica. La situazione si complica ulteriormente al ventesimo quando Alessio Ceccagnoli entra con il piedamartello su Chiarello, intervento pericoloso e giustamente punito dal direttore di gara con il rosso diretto. La partita si incattivisce ed il fallo di Ciccone su Bocciolini lo conferma in pieno. Il numero 7 degli ospiti viene sanzionato con l'espulsione. Trestina in 9, Fiesole Caldine in 10. Nonostante l'inferiorità numerica i Tifernati cercano i tre punti e alle 31esimo raggiungono l'obiettivo. Perfetto il cross di Calderini. Splendido il colpo di testa di Giannelli che da posizione defilata firma il gol del 3-2. Il Casini esplode per un gol fondamentale e forse inatteso. Il Trestina gestisce bene i minuti finali e al triplice fischio esulta per l'importante vittoria. I numeri di Tifernati si fanno sempre più rilevanti per i due successi di fila, per i 18 punti conquistati nelle ultime 8 partite e per il quarto posto in classifica.